Presentazione in grande stile per il team Impa Bianchi Giussfredi, squadra ciclistica femminile a livello professionistico con sede a masse cozzile. Le ragazze allenate dal nuovo tecnico Giuseppe Lanzoni sono state presentate nei locali dell'Hotel Croce di Malta di Montecatini. La squadra 2016 è composta dalle riconfermate Anna Zita Maria Strieker, Claudia Cretti, Angela Maffeis, Diva Tuslaite, Lituania, Tetiana Ryabchenko, Ucraina. E dalle nuove arrivate la statunitense Bethany Allen, la svedese Sara Olson, la rumena Anna Maria Krovig e le italiane Lara Viesceli, Michela Pavin, Viola Rita Galli e la juniores Elena Pippi. Obiettivi e invenzione ce ne sono tanti perché ci sono ragazze di talento in questo gruppo, quindi adesso il mio compito sarà quello di amalgamare il gruppo, di farle coesistere e credo che quest'anno si potrebbe ottenere dei grandi risultati. È un anno importante, c'è le Olimpiadi, abbiamo alcune ragazze che ci puntano, quindi speriamo di riuscire a fare dei risultati buoni. L'obiettivo più importante sarà la World Tour, il corso del World Tour, poi naturalmente il Giro d'Italia. Fra gli ospiti d'onore i due campioni olimpici della 4% alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, Marco Giovannetti e Marcello Bartalini, e l'ex professionista ora voce di Eurosport Riccardo Magrini. Mi aspetto meglio dell'anno scorso, ti dico proprio la verità perché sono soddisfatto della campagna acquisti, se si può chiamare così, e ci sono delle ragazze che sono una scommessa, ma io credo che sia una scommessa che si può vincere benissimo, perché sono reduci dalla stagione passata con non tanti successi, con qualche problema fisico, con qualche problema familiare. C'è una scommessa americana che sicuramente potrebbe essere una sorpresa, ma non per noi, anche per gli altri, perché potrebbe essere una stagione migliore del 2015. Il servizio speciale sulla presentazione andrà in onda all'interno del trisettimanale Toscana Sprint, su Sport TVL Canale 193, martedì sera alle 22 e mercoledì alle 13.